Accanto ai corsi che tradizionalmente ASCOM svolge, per l'autunno 2015 abbiamo pensato di promuovere tre nuovi percorsi formativi. Si tratta di corsi incentrati su tre tematiche differenti e rivolti alle attività commerciali, ai loro imprenditori e ai loro addetti. Il primo corso è un corso sulle tecniche di vendita, incentrato in particolare sulla negoziazione efficace e sull'ascolto del cliente. È della durata di due giornate non consecutive. La docenza è affidata a un trainer che ha esperienza sia come responsabile commerciale, avendo lavorato sia in Italia che negli Stati Uniti, e sia come formatore. Il secondo corso è un corso relativo al visual merchandising, quindi tutto quello che riguarda l'allestimento della vetrina e dell'interno del punto vendita, nonché a quelli che sono i principali strumenti di fidelizzazione del cliente. Il corso barman, che prevede due livelli, un livello base e un livello avanzato, della durata di 30 ore ciascuno, ed è rivolto a coloro che lavorano nei pubblici esercizi o che intendono e vorrebbero entrare in questo settore. Ai corsi possono iscriversi i titolari e i dipendenti delle imprese. Potete rivolgervi alla nostra segreteria corsi per avere informazioni negli orari d'ufficio che sono dalle 8.30 alle 12.30, dalle 14.00 alle 18.00 e il venerdì fino alle 17.00 a Scombiella dalla parte dei commercianti.